Sotto vecchi rami si cela appeso il frutto del cuore, gonfio d'odio, che possa esplodere e inondare i primi eletane. Che in questa culla crevisi possa nascere un'amalgama a tira! La sua ira bruci perenne, finché non avrà divorato per intero questa terra maledetta. Il sangue di Nafaine fluisce qui. Mi serve più spirito ancora farlo. Devo attendere un attimo. Sì. Nel mio progenio dell'odio abbiamo carne più tenera da cacciare. Maledizione. Ferita ma non morta. Dov'è finita quella creatura? Dov'è finita. Sottotitoli. C'è un sacco di calma. Dopo gli uomini. Sottotitoli. L'automina è venuta. C'è un sacco di calma. Sotto vuole le fogloredene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E temo abbia portato con sé un pezzo di te, una bestia nata dal tuo stesso sangue. È colpa mia. Che ruolo hai avuto in tutto questo? Un patto con Lilith per aiutarmi ad annientare cavalieri penitenti. In cambio di cosa? Le ho detto... Dove si nasconde Astaroth? È il Daim. Perché? Davanti a lei ha perso il controllo. La rabbia mi consumava! C'è solo una cosa da fare... Mettere fine alla corruzione! Ehi... Ehi... Mettere fine... Oh... Oh! 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 Grazie a tutti